buonasera e bentornati all'isola siamo noi nello spazio dedicato alla storia con l'avvocato di meglio stiamo parlando di personaggi illustri continuiamo su questo argomento vediamo questa sera l'avvocato di chi ci parlerà di un personaggio che vicino di casa quasi perché abitato per tanti anni sulla collina di sant'alessandro e mi riferisco a paolo buchner il padre dell'archeologo giorgio buchner quindi vorrei tratteggiare un po la figura di questo scienziato di fama internazionale come mai è venuto qui a ischia e come mai si è innamorato tanto di ischia tanto è vero che poi il figlio e i nipoti vivono con il figlio è vissuto e i nipoti vivono ancora a ischia e quindi veramente un personaggio molto molto importante per fortuna ischia si è ricordata di paolo dedicandogli il giardino il parco alla pagoda e quindi c'è stato un riconoscimento perché veramente questi personaggi che sono venuti da fuori hanno fatto grande ischia hanno fatto grandi gli schitani e poi molto spesso sono finiti nel dimenticatoio invece guardate con paolo buchner che era uno scienziato ha dato un grande apporto al turismo a ischia non come da scienziato ma perché poi venendo a ischia e stabilendosi a ischia e stando qui in pensione ha studiato la storia di ischia ha scritto dei libri su ischia e poi ha fatto una ricerca importantissima cioè ha ricercato attraverso le biblioteche tedesche di fuori attraverso delle notizie delle informazioni anche di colleghi sui universitari tutti i turisti che sono venuti dal cinquecento fino all'inizio del novecento a ischia ma al di là delle alpi quindi di cui non so avevamo quasi niente o soltanto qualche piccola notizia quindi questo che ha fatto negli anni sessanta ha raccolto tutta questa tutta questa documentazione ne ha fatto un bel libro gast auf ischia cioè un ospite a ischia che è stato scritto in tedesco e per tanti anni è stata veramente la bibbia dei tedeschi che venivano a ischia però poi per fortuna negli anni 90 è stato tradotto anche in lingua italiana per cui abbiamo la possibilità tutti quanti di accedere a questa enorme miniera di notizie e abbiamo la possibilità di vedere come ischia fosse conosciuta a livello europeo quindi come fosse veramente conosciuto anche al di là delle alpi e come mai ci fosse stato questo grande attaccamento tra la germania e ischia perché le radici erano profonde e affondavano proprio dei secoli del grandur quindi parliamo del settecento dell'ottocento e napoli faceva parte dell'itinerario del grandur e quindi i tedeschi poi che venivano a ischia o gli scandinavi che venivano a napoli chiedo scusa era facile allargare il loro raggio di ispezione turistica e venire e giungere fino a ischia quindi paolo buckner è uno che con questo suo libro con queste storie su ischia ha veramente dato un contributo enorme e vediamo chi è questo personaggio così importante per la nostra storia lui è nato alla fine del 1800 da una famiglia borghese il padre era un medico e nei primi tempi si voleva indirizzare i suoi studi verso o la medicina o la botanica poi a un certo punto ha indirizzato tutte le sue ricerche sulla zoologia fino a diventare forse nel campo della zoologia di una specifica materia lento simbiusi forse il maggiore specialista al mondo e lui ha studiato è a norimberga quindi stiamo nella baviera dove si respirava un'area molto europea anche molto italiana perché norimberga io sono stato la patria di di urer di questo grande pittore è veramente questo grande pittore ha avuto già nel quattro fine del quattrocento contatti con il mondo artistico italiano lui è venuto a venezia è venuto a firenze quindi ha subito l'influsso il fascino di leonardo da vinci di tutti i pittori fiorendini e quindi c'è sta questo questo legame culturale tra norimberga e l'italia tra il rinascimento tedesco rappresentato dal massimo pittore loro durer e rinascimento italiano e poi voglio dire di norimberga è una città che mi appassionato perché veramente belle ci sono stato il giorno qualche giorno prima di natale e devo dire che è la cittadina tedesca dove si respira di più il proprio il sapore l'odore il profumo del natale ma veramente tutta la città partecipa a quest'evento tutte le chiese sia quelle protestanti luterane sia quelle cattoliche veramente partecipano a questo evento quindi io immagino che lui da giovane ha respirato quest'aria natalizia quindi ha respirato anche questa cultura italiana e quindi ha avuto sempre forse già da piccolo questo attaccamento questo desiderio di conoscere l'italia quindi di conoscere la nostra storia e lui da giovane fa è un brillante studente poi diventa professore di a wussburg a wussburg pure un'altra bellissima città dove ci sono i dipinti nel nel palazzo diciamo principesco del principe conte di giovane battista di epolo ci sono degli affreschi bellissimi quindi vedete che pure lì nel seicento c'era questo grande pittore che ha fatto di questi affreschi meravigliosi e quindi anche lui lì ha respirato quest'aria di arte italiana oltre tutto voglio dire pure una curiosità in questo palazzo c'è una scala che è stata ripresa pari pari dal van vitelli nel palazzo reale di caserta normalmente sono gli architetti italiano che sono vissuti in italia a fare da modello per gli altri architetti per gli altri castelli qui c'è stato un caso inverso lo scalone così come è stato ideato dall'architetto a wussburg e ripresa dal van vitelli per la reggia di caserta con la differenza che quella di caserta è molto più grande essendo il castello essendo la reggia fra le più grandi del mondo quindi è normale anche lo scalone principale fosse molto grande fatto questa premessa lui fa i suoi studi tutto quanto diventa insegnante appena laureato diventa insegnante poi che cosa fa va anche a insegnare a monaco e a monaco incontra una persona che appartiene al regno austro-ungarico che però poi diventa italiana perché nata a gorizia quindi e questa si chiama massimiliana coppa o miliana coppa questa ragazza di gorizia appartenendo al regno austro-ungarico va a monaco perché monaco è l'unica accademia di belle arti che fa accedere le donne anche per lo studio del nudo ma in tutte le altre parti era vietato quindi ci sta un ambiente molto più avanzato liberale quindi progressista questa ragazza ha la possibilità di fare degli studi dal vero e lì incontra paolo buchner paolo buchner è affascinato a questa fa da questa figura di fangiulla però oltretutto ha anche il desiderio di apprendere l'italiano perché è vero che questa ragazza austro-ungarico però vive in una città gorizia che dove l'idioma principale è quello italiano e quindi lei offre tutti gli elementi della lingua i fondamentali della lingua italiana a paolo buchner per quale motivo perché paolo buchner ha vinto giovane laureato una borsa di studi e deve regarsi nel 1910 a napoli per proprio per mettersi in contatto con come si chiama il piccolo zoologico di studi con anton dorn a napoli e quindi lui sta a contatto con anton dorn proprio in quegli anni sta costruendo la sua villa a ischia all'ingresso del porto di ischia che poi diventerà una situazione zoologica marina anton dorn che tutto resiste quindi è probabile che lui sia venuto a ischia in questo anno in cui ha fatto ha vinto questa borsa di studio sia venuto a ischia si sia innamorato dell'isola di ischia quando ritorna sposa nel 1913 questa miglia liliana coppa e poi l'anno successivo hanno un figlio l'unico figlio giorgio e da qui poi inizia una brillante carriera universitaria insegna a volsburg a monaco a breslavia quella che adesso è froclaf tutte bellissime città che peraltro io ho visitato l'ipsia mi è capitato di vedere veramente sono città bellissime gotiche molto molto bella l'ipsia sta sepolto bach quindi poi ha avuto molto dette ci stanno gli affreschi di tiepolo e annoni berga di urer e quindi veramente quando tu passi per questi posti veramente ti accorgi che quando ci sia un legame così forte fra l'italia e la germania comunque lui fa questo iter molto importante e continua i suoi studi fino a diventare la massima autorità nel mondo delle endosimbiosi cioè questo rapporto che esistono tra i micro organismi che si scambiano dell'informazione a livello genetico quindi veramente è una grande mente tanto è vero che lui pensa di poter ottenere e tra i candidati a ottenere il premio nobel proprio per le sue ricerche e poi non trascura l'italia quando c'è le vacanze con la moglie viene a ischia quindi viene in italia principalmente a ischia nel frattempo la moglie è diventata cittadina italiana perché corizia fa parte ormai del regno d'italia e quindi hanno la doppia cittadinanza lui ha sposato un'italiana non più un'austro-ungarica ma una cittadina italiana quindi ha questa doppia cittadinanza probabilmente comunque il figlio che nasce ha sicuramente la cittadinanza anche italiana e quindi vengono qua lei questa donna piccola minuto ma molto intelligente molto in gamba ha la possibilità di vedere degli squarci di panorama molto molto importanti e poi di fare veramente dei bei quadri di ischia e poi ho visto anche dei quadri a casa di persone di sant'alessandro e veramente sono dei quadri estremamente deliziosi peccato che questa pittrice non ha avuto una fama come meritava perché probabilmente è vissuto all'ombra del marito scienziato quindi più importante più più celebrato comunque veramente una pittrice di una grandissima sensibilità veramente con i colori quasi morandiani molto teseva molti vanescenti molto puliti molto dipinge ci pare che dipinge più col cuore che con la mano e veramente sono dei ritrati ma veramente degli angoletti o dischi oppure dei fiori dei vasi della natura ma molto molto graziosi e quindi lui viene a ischia finché poi nel 27 acquista a sant'alessandro un bel vigneto in una zona panoramicissima zona di sant'alessandro dove si vede il porto si vede il mare e lì poi in altri anni 28 30 costruisce la villa che tuttora dove abita la nuore abitano i nipoti dove ha abitato per tanti anni il figlio e quindi che cosa fa lui viene a ischia e ha anche contatti con il mondo culturale ischitano un po alla volta si avvicina anche se all'inizio non è molto assito a frequentare il mondo perché sta ancora insegnando in germania però quando al tempo libero si trasferisce volentieri con tutta la famiglia a ischia sarò che poi quando scoppia intanto lui è diventato celebratissimo ottiene premi laurea onoris causa veramente il suo nome gira per tutto per tutto il mondo accademico e scientifico però poi scoppia la seconda guerra mondiale lui preferisce rimanere a ischia poi quando cade il regime fascista non viene colpito perché non si interessa molto di politica e poi nello stesso tempo ha sposato in italiana quindi venne diciamo così ignorato sotto l'aspetto in senso benevolo venne ignorato sia dai fascisti sia dagli americani gli inglesi che vengono successivamente nel 18 1944 si stabilisce definitivamente a ischia anche perché poi si stabilirà completamente a ischia perché poi lui diventa pensionato l'ultima cattedra lavuta all'ipsia e lui si concederà dal mondo accademico come professore emerito di zoologia all'università di lipsia e quindi si trasferisce a ischia nel 1944 quindi subito dopo l'arrivo degli americani degli inglesi a ischia fonda insieme a onofrio buonocore e altri intellettuali illuminati fondi centro studi dell'isola tischia presso la biblioteca antoniana alla mandra e lui già si vede lì che ha un rapporto diverso a una posizione diversa all'interno del centro studi perché mentre onofrio buonocore vuole dare un connotato più legato al mondo della chiesa lui preferisce dare dare un apporto e contribuire a dare un diciamo così un aspetto più laico a questo centro studi quindi è poi anche un altro punto di vista differente che mentre buonocore è un pochino più elittario invece buc ne respinge perché questo centro studi si allarghi a tutti i personaggi che hanno interesse quindi non fare una questione di elitta ma fare qualche cosa di estremamente popolare e poi non essendo più un accademico quindi essendosi liberato di tutti gli impegni di professore universitario decide di dedicare la sua curiosità e di dedicare tutti gli studi sull'isola di schia e quindi comincia a scrivere delle cose bellissime sull'isola di schia sulle case di pietra poi scrive su una biografia su cevagli del rivaz che è un medico termalista poi scrive la prima biografia di giulo giulio jasolino e poi scrive pure un'altra cosa molto molto interessante la storia delle terme dell'isola di schia delle terme del porto di schia e che cosa succede che scrivendo questo libro lui apre uno spiraglio al progresso al turismo termale dell'isola di schia quando scrive questo libretto forse non lo so ah poi parla anche del professore del medico protometrico francesco buonocore quindi parla del palazzo reale e lui anche in questo caso da scienziato da traccia un sulco importante per gli storici ischitani cioè dice gli storici non devono affidarsi ai racconti alle fantasie che pure fanno parte della nostra storia alle tradizioni orali però bisogna andare a cercare i documenti bisogna fare dei raffronti bisogna essere scientifici la ricerca si fa su un metodo scientifico non in base alle proprie deduzioni ma in base a ciò che risulta dal dagli archivi e dalle biblioteche quindi una cosa a mettere da parte le proprie idee e portare avanti veramente i fatti concreti così come sono accaduti anche se c'è questi fatti ci dispiacciono o non ci fanno piacere non ci fanno comodo questo era l'altro metodo di francesco di eonofrio buonocore quando c'era un fatto ischitano accaduto a ischio di un ischitano riferente a un cittadino ischitano che era un fatto poco piacevole o lo trasformava o lo metteva da parte buonocore dice bucchina dice questo non è possibile noi dobbiamo usare invece il metodo scientifico cioè dire i fatti così come stanno egli scrive poi questo libro negli anni 60 inizia a raccogliere meravigliosamente tutti i documenti sul sui turisti sugli uomini importanti che sono venuti a ischia e quindi veramente abbiamo la possibilità di avere una visione dell'isola di ischia molto molto più grande molto più importante noi pensavamo e fino a quell'epoca si pensava che il turismo riguardava solo qualche aspetto particolare di qualche soggetto invece in seguito agli studi del buco nelle si è visto ma che tanti tantissimi venivano a ischia nel settecento a partire dal cinquecento addirittura dal cinquecento fino all'ottocento ma personaggi importanti lui è il primo che parla di ludwig primo che viene a ischia che va all'acqua meno alla pensione a desiana alla pannella sotto falso nome lui ti scrive tanti tanti fatti tanti personaggi diciamo la verità questo libro è messato anche utile per le ricerche che ho fatto io e quando parliamo di personaggi che ischitano che sono venuti a ischia dobbiamo ringraziare se questa trasmissione si può fare anche grazie all'apporto che ha dato paolo bucconer che molte notizie le prendo da lui in quanto non posso certo recarmi agli archivi di 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 monaco di berlino di altre parti lo questo lavoro l'ha fatto lui che era del posto anche perché poi i documenti erano scritti in lingua dei dischi quindi questo questo fatto è molto importante e lui scrive tantissimo scrive centinaia di articoli di libri e dove mette raccoglie tutte le sue esperienze di zoologo quindi continua gli studi tutto quanto mette insieme tutti gli appunti e continua a pubblicare quindi qui c'è la possibilità di vivere una vita serena a sant'alessandro e lui si costruisce questa villa dove è diciamo quasi il centro del dei suoi interessi e nel ricovero del suo della sua anima come la villa san michele è stato il diciamo così il buon riposo il buon ritiro il buon ritiro di axelmunde la villa di sant'alessandro è stato il buon ritiro di paolo bucconer e lì c'è tutta la sua produzione ci sono i suoi ricordi ci sono le sue fotografie e qui è vissuto fino alla fine perché ormai si considerava un cittadino eschitano io non ho avuto la possibilità di conoscerlo perché quando lui era in augi era forse non erano nato era un bambino però mio padre che l'ha conosciuto mi diceva che era una persona estremamente gentile estremamente sorridente un ottimista e la moglie era sempre una persona anche simpatica gentile veramente erano una coppia di persone che amavano la vita che si sapevano fare amare non davano fastidio a nessuno quindi giustamente queste due figure anzi a questo punto di lancio pure una sfida se è possibile chi ha dei quadri di questa miliana coppa facesse una mostra perché probabilmente non ha mai avuto una mostra personale a ischia forse fuori però sarebbe bello interessante fare una mostra di questa donna e vedere veramente quale spirito gentile lei possedesse e come abbia probabilmente contribuito a sorreggere il genio la grande capacità la grande scientificità le grandi induizioni scientifiche del marito paolo bucner